230.000 euro dal fondo di riserva per il centro Benelli e la statale 16. È il risultato dell'operazione approvata ieri in giunta che permetterà al comune di Pesaro di mettere a terra in tempi stretti le risorse necessarie per risolvere due criticità contingenti dovute al maltempo. In particolare 130.000 euro sono destinati per il centro direzionale Benelli, 100 invece per la statale 16. Da aggiungere poi 20.000 euro per il ripristino di strada dell'Angelo Custode dove la careggiata ha ceduto durante la bomba d'acqua di agosto. Per il centro Benelli sarà necessario realizzare un ponteggio di sicurezza per consentire un appoggio sicuro della trave lesionata dalla pioggia. Dove tutti hanno visto quello che succede soprattutto sui social dove quando piove praticamente c'è una cascata ma quello non è quello il problema, il problema è che invece queste infiltrazioni di acqua hanno rovinato quelle che sono le travi che in qualche modo tengono sulla copertura e quindi bisognerà fare un intervento di consolidamento importante. Importante è l'intervento previsto nel tratto di statale 16 interessato da una frana caduta dal Monte Ardizio. I fondi messi in campo serviranno per la rimozione dei detriti e il rifacimento delle reti di protezione. L'obiettivo è terminare i lavori entro l'anno per un tratto importante nel collegamento pesa-rofano. Anche questo è un intervento che occorre fare quanto prima perché non possiamo permettersi di lasciare la strada statale a senso unico alternato anche se proprio ieri abbiamo avviato, abbiamo inserito il semaforo per garantire almeno il senso unico alternato. Dall'altra parte abbiamo messo risorse per avviare il progetto per la sistemazione della frana, anche questa molto importante perché ci richiederanno 250 mila euro anche per la sistemazione della frana in via dell'Angelo Custole.